Buongiorno ragazzi e ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi vi porto con me in una giornatina super interessante, quindi tenete bene gli occhi aperti perché faremo soprattutto una cosa che sono sempre stata curiosa di provare, ma non mi ha avuto il coraggio, ovviamente l'avrete già metto dal titolo. Quindi andiamo a fare il laser ai tatuaggi. Come sapete io ne ho tantissimi, però nel corso del tempo alcuni, metti caso si sono rovinati, o semplicemente quando arrivi a un certo punto che ne hai così tanti, alcuni tatuaggi insieme ad altri cozzano, detto in parole povere, non li voglio più vedere sul mio braccio e ne vorrei fare altri al posto di quelli. Ho contattato una clinica che si chiama Laser Medical Center, che ha diverse sedi in Italia e quindi oggi appunto ho il primo appuntamento con loro, vi faccio vedere un po' i macchinari che usano, come funziona il tutto, insomma ci faremo spiegare un pochino di cose così se siete interessati vi può essere utile questo video. Intanto io mi sono svegliata, appena svegliata, quindi perdonate sta faccia, però mi sono svegliata dal sogno più bello che abbiamo fatto in tutta la mia vita intera. Che poi perché succede così? Ogni volta che sei sul punto più bello del sogno, sveglia e mi sono dovuta svegliare. Detto ciò, io prima di andare a fare questa cosa del laser, devo passare dal parrucchiere per capire come tagliare i capelli prossima volta. Io non so come siete rimasti qui su YouTube, ma come vedete mi sono fatta castana e ho lasciato questa parte viola qua sotto. Quindi devo prima passare da loro a sentire e poi devo andare a casa della Julix, pranziamo insieme e così appunto lei poi mi accompagna a tutte cose. Prima tappa, colazione, se no non mi sveglio non mi sveglierò mai. Sono esattamente le 9.44, quindi direi proprio che mi devo dare una sbrigata, devo anche andare a mangiare i cani, quindi let's go. Allora, partiamo da un presupposto. Volevo farvi vedere i tatuaggi che avevo intenzione di trattare. Ovviamente come sapete il laser ai tatuaggi è primo molto soggettivo, quindi magari ad alcuni fa effetto prima, ad altri ci vogliono magari un po' più di sedute. Perché ovviamente l'operazione va fatta a sedute distanziate almeno di un mese, un mese e mezzo l'una dall'altra. È per quello che ho detto inizio prima dell'estate, tanto io lo sapete che il sole non lo prendo. A prescindere però, è sempre meglio iniziare prima. Quindi i primi che vado a trattare sicuramente sono questi qua che io ho sulle dita. Non perché non mi piacciono, perché li adoro, ma perché con il tempo e ripassandoli si sono allargati tanto. Questo è stato proprio un errore del tatuatore che me l'ha fatto, che ovviamente ha usato un ago e una pressione troppo grande per la zona. Quindi questi sicuramente si toglieranno molto facilmente perché li ho fatti primo tanto tempo fa, quindi più un tatuaggio è vecchio, più si toglie più facilmente. Secondo poi vabbè è una zona piccola, quindi vediamo in quante sedute si toglieranno e ovviamente poi mi piacerebbe rifarli. Stanno pure a fare lavori grandi. Questo qua sempre sul dito, questa luna che in realtà era la prima cosa per cui io volevo fare il laser, è stato il principio di tutto. Anche perché penso si veda si è allargato tantissimo, sempre stesso tatuatore, stesso errore. Questo che è super super basso e non mi piace, quindi l'unico che terrò su questa mano praticamente è questo e la scritta che ho qui Not Today. Poi qui mi ero fatta un cuoricino nero piccolino, che poi ho ripassato facendolo viola più grande. Quindi vorrei cercare di togliere quello che appunto avevo sotto piccolino nero e rifarlo tutto viola. Vediamo se ci riusciremo. Poi questa è una cosa che mi dispiace tanto, però ripeto per una questione più estetica che altro lo voglio togliere. Che è il mio primissimo tatuaggio. Molti di voi si ricorderanno. In realtà toglierò sia questo, che è appunto stato uno dei primi che ho fatto. Il primo giorno che sono andata ne avevo fatti due, io già pazza al tempo. Che è questa scritta qui. Non mi piace semplicemente la posizione e poi appunto vedrò di farci, boh, qualcos'altro, vediamo. Poi la scritta Stay Strong. Questo è questo qua, che si è sempre allargato, che in teoria è la costellazione del mio segno zodiacale il toro. Questo come vedete è stato fatto, è rivolto verso di me e in realtà i tatuaggi andrebbero fatti rivolti verso chi li guarda. Quindi voglio togliere tutta questa parte. Poi ovviamente ci rifarò qualcosa perché sì. E poi sempre sul braccio toglierò questa mano verde, così sperimentiamo anche il laser sui tatuaggi colorati. Il boccino che si è rovinato nel corso del tempo e questo qui. Ripeto, non che non mi piaccia più Harry Potter o cose del genere, anzi lo sapete. È proprio una questione di tatuaggi colorati, ne vorrei fare di più bianchi e neri, il fatto che si sono un po' aperti. Quindi in linea generale questi sono quelli che andrò a trattare. Quindi direi che a 10 e un quarto è giunto l'ora di andarsi a preparare col Jong-un nazionale. Volete vedere? Adesso mi sono fissata a fare gli sfondi live. Ho trovato un'applicazione e poi vi faccio vedere pure quella. Quindi mi sono fatta tutte le mie clip del mio Jong-un preferito. E l'ho messo come sfondo live. No, vi giuro, vi fa tagliare sta situazione. Bene, andiamo. Mi mancava vloggare per strada. Mi abbassa un attimo che non c'è nessuno. Comunque, a parte si muore dal caldo. Sono appena stata a fare la colpa a rucchiare. Giovedì vado. Facciamo un cambio, spero, definitivo per qualche tempo. Perché devo un attimo far riprendere questi capelli. Ultimamente mi sono data la pazza gioia. Cerchiamo di tornare un pochino alla normalità. Detto ciò, ora vado da Giulie. Spero che il mio pranzo dietro al cofano della macchina non sia diventato ricotta. E via. Siamo arrivati a casa della Giulix. Quanto è che non la vedete, casa della Giulix? È un bel po'. Quanto è che non vedete la nuova Giulix? Si sta nascondendo. 3, 2, 1... Ti piace il nuovo profilo? Cosa c'è di nuovo? C'è un nuovo amico aggiunto alla famiglia. Un nuovo nasino. Vabbè, niente, noi... Così, ogni tanto ce n'è una, ragazzi. Ci sopportate così. Comunque, in tutto ciò si sono fatte 12 eventi. Ora stiamo un po' qui tranquille perché si muore dal caldo, letteralmente. Infatti mi sono tutta, fa una treccia di fortuna, praticamente. Una colana con il sudore ha ossidato un po' che non è. Non so, si ritroverà tipo stigma, ti capite? Incollata. Potete capire la qualità, insomma, della colana. Incollata è qua, per male. Io mi sono messa questa un po' altina. E poi mangiamo e si va. Eccoci qua. Sei pronta? Siamo per iniziare da questi. Ok. Scusi, mi ricorda anche la mia reazione poi. Shocked, perché... Ok, iniziamo. Oh, bello. Adesso ci sarà un modo di vedere. Come va? Bene. È più che altro, è un bruciore. Brucia tanto. Come va? Bene. Questa è un peggio. Vedi, molti vitro che vedi, diventano completamente bianchi. Ma ma. È quello che stificia il fatto con il forno. Non sempre si correla. Anzi, in realtà non è quello correlato con la buona riuscita del trattamento. Ok. Ok. E' un effetto, diciamo, di sublimazione termica delle cellule che ti fa soprattutto più sfracciato. E non scoppi il filo, però. È un attimo il fisico forte e uscionante. Ok. Abbiamo finito il laser. Come è andato, Ila? Benissimo. Sì? Grazie. È una passazione. Ora. È peggio questo. Sta facendo un cosplay di Halloween. Allora, siamo uscite, che sono andata in farmacia a prendere tutte le varie creme e cremine che guardate come sono messa. E poi, che fai? Non vieni qua a prenderti un pezzo di tortina, di sbriciolatina. La Giulix ha due pasticcine. Sì, ma il babano c'è. Ecco qua. Va detto tutto, insomma. Era carino perché c'erano questi pionellini. Comunque, veramente, a casa vi spiego bene tutto quanto riguardo a sta roba. Però vi posso dire che non è come sembra. O almeno, forse, sarà un caso a parte io, che vi devo dire. Comunque, poi vi racconto tutte le mie emotion. Allora, sono tornata a casa. Mi sono fatto, ovviamente, una doccia perché dopo aver preso i mezzi che non li prendevo da una vita, era d'obbligo. In più, stamattina, appunto, sono andata a parlare col parrucchiere e mi ha detto, tu lavali. Cercai di tenere lo shampoo un po' in posa così scarica il colore. Cheat. Cioè, ne avrò perso, tipo, pochissimo. Quindi, vabbè. In tutto ciò ci sono fatte le otto. E adesso vi faccio vedere la situazione dei tatuaggi. Perché sto notando una cosa, in particolar modo in quelli un po' più neri. Come se il colore si fosse allargato e stesse, tipo, migrando. E in effetti il laser va a fare quello. In sostanza, va come a pizzicare tutti i pigmenti del tatuaggio e li fa piano piano migrare in modo che il corpo li assimili, in qualche modo, diciamo così. E poi li porti via, no? Quindi sto notando proprio questa cosa. Però, gonfiore, ecco, in particolar modo un po' sulle dita. Per il resto. Tipo, non so se su questo tatuaggio si vede. Secondo me un po' si. Vedete, tipo, le esse? Come sembrano allargate. Anche questo qua. Questi un pochino di meno. E il gonfiore principalmente ce l'ho su questi. E quindi, ecco, a parte questo, tutto il resto direi super bene. Stasera poi vi faccio vedere come faccio la medicazione. Detto ciò, adesso vado a cena. Che in realtà è anche tardi. Ed è tutto il giorno che faremo. Perché ogni martedì alle 2 esce una puntata dei RAM BTS. Dei BTS, appunto. Come sapete sono una baby army. E mi fa ridere, dire così. Però li conosco da poco. Anche se sono diventati fondamentali un pilastro. E quindi sto fremendo per poter guardare questo episodio. Perché, raga, dovete sapere che appena esce qualcosa di BTS. Il mio esplora di Instagram impazzisce. Quindi io non mi posso perdere neanche mezza cosa. Cioè, proprio non posso. Non è possibile. Quindi ho visto tutte le immagini di JK che ride. Poi con i capelli blu che secondo me gli stavano da panico. Col codino. Io già impazzita follemente. Della serie Non scherzo se io vi faccio vedere i miei salvati di Instagram. Questi sono i miei salvati di Instagram solo nelle ultime... Boh? Nell'ultima giornata? Sì. Penso proprio di sì. Quindi giusto per farvi capire il livello. Come si fa? Come si fa? Qualcuno mi dica, per favore. Vi dico solo che io sto cominciando a mettere a parte i soldi adesso. Per i concerti futuri. Boh, ho detto tutto. Vabbè, detto ciò mi... Mi vado a vestire, a mettere i pigiama. Con un bellissimo pollo con verdure. Ragazzi, per favore. Sto ridendo veramente come una mente catta. Da sola davanti a un computer. L'episodio è durato 41 minuti. Tra l'altro alla fine c'era anche Yungi. Quindi ti amo, Yungi. Però raga, cioè, mi devo assolutamente reidratare. Perché mi giuro non ho più voce. Quando vi dico che questi ragazzi fanno bene al cuore, io lo intendo veramente. Se avete una giornata pesante, fatemi un giro veramente a vedermi Run BTS. Perché vi sfasciano proprio. Tant'è che... Cover a parte. Con Gwenda che sale intanto. Mi sono registrata un pezzo di schermo dell'episodio che mi ha fatto morire. Ve lo devo far vedere. Lo sapete tutti, penso che il mio bias è JK. Ma quando ride, raga, sorride anche il mio cuore. Vi giuro che può sembrarvi eccessivo per chi non ci sta dentro. Ma chi ci sta dentro mi può capire. Praticamente in questo episodio ne ho scritto delle favole per bambini, ok? Delle favorite. E Pia ha scritto questa storia su una fata. E stava leggendo questa storia su sta fata. Il problema è come me ha chiamato sta fata. Quindi la reazione di JK mi ha distrutta. Io faccio vedere. Pappo. Pappo. Sa perché? Mi spiega perché? Lui continuava a dire. Ma perché sei una fata? Si chiama Popò. Mi giuro. Io non ce la posso fare. Comunque ho fatto la medicazione ai tatuaggi. Allora, cosa ho usato? Prima li ho sciacquati con un po' di questo. Che è l'acqua borica. Dovrebbe essere una sorta di antinfiammatorio, insomma. E poi, la sera, vado a mettere il gentamicina. Non il gentaling bed, ma il gentamicina. Ovviamente questo è quello che hanno detto di fare a me. E poi ogni posto ha le sue cose. Tra l'altro, il posto dove sono andata a fare il laser ve lo lascio qua sotto. Ma comunque, se andate sul mio Instagram, trovate le storie in evidenza sul profilo. E poi, 3-4 volte al giorno, devo mettere questa crema qui protettiva, che è il Triderm, della Bioniche. Che è una crema protettiva a base d'argento, che va proprio a ricostituire tutto lo strato cutaneo. Quindi sì, questo sostanzialmente è. Dovrò farlo per 5-6 giorni. Il gentamicina forse 7 giorni. C'ho tutto scritto sul foglio di là. Comunque, veramente super semplice. Detto ciò, penso proprio noi ci saluteremo qui. Perché per oggi tanto la giornata è bella che è finita. Fatemi vedere che ore sono. È quasi mezzanotte. Visto che domani mi devo svegliare presto, ho anche la lezione col mio personal train. Direi che si va. Noi ci rivediamo in un prossimo vlog. Ora che mi è ripreso a funzionare la macchinetta, ne farò tanti, 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 tanti di più. Perché io adoro fare vlog. E quindi, niente, anche se magari durante le mie giornate non farò nulla di interessante. Cercherò di riprendervi più spesso. Poi torneremo con anche i video sul make-up. Noi ci vediamo appunto prossimamente. Credo vi porterò quando vado a fare i capelli. Così vediamo questo ennesimo cambiamento. Penso non aver mai cambiato così tanti capelli in così poco tempo in tutta la mia vita. Non so se c'entra anche il fattore K-pop. Perché vedi mille colori di capelli diversi. Mille tagli. Ti viene voglia di fare tutto. Però ho sperimentato dal platino al lilla, al viola, ora questo, castano con sotto il viola. E niente, a una certa penso che ci diamo anche una placata. Ilaria, anche perché adesso poi che c'è l'estate, tutte cose, è una palla sta dietro ai capelli. Quindi farò una cosa veramente molto semplice. Con cui però non mi avete mai vista. Quindi secondo me può essere interessante. Vi ripeto, fatemi sapere se avete qualche domanda sul laser. Perché io semmai prossima volta poi le faccio al dottore e vi riprendo tutto. Detto ciò, bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!